Ben ritrovati amici del centro meteo italiano, l'anticiclone africano lambisce con i suoi effetti l'Italia e buona parte dell'Europa orientale, come potete vedere qui a fianco, determinando condizioni di tempo stabile e soleggiato, ma soprattutto portando aria caldissima sulla nostra penisola. Quest'inizio di agosto sarà infatti caratterizzato da un'intensa duratura ondata di caldo, con le temperature che potranno anche riscrivere dei record, superando localmente i 40 gradi da nord a sud. Vediamo però ora in dettaglio le previsioni per domani, mercoledì 2 agosto, con la giornata che sarà caratterizzata dal sole ma soprattutto dal caldo intenso. Al mattino condizioni di tempo stabile su tutta la penisola, con ampi spazi di sereno alternati solamente a qualche nube sparta, il rapido transito sulle regioni centrali dell'Italia. Si rinnovano condizioni di generale stabilità anche al pomeriggio, con sole prevalente eccetto locali addensamenti specie sulle Alpi, dove non si escludono isolate e acquazzone. In serata i fenomeni andranno velocemente esaurendosi sull'arco alpino, lasciando dietro di loro solamente qualche nube sparta, mentre altrove i cieli continueranno a rimanere sereni. Situazione simile anche in nottata, con ampi spazi di sereno da nord a sud, salvo qualche nube solo sui rilievi nord-occidentali. Per quello che riguarda le temperature, come detto, l'inizio di agosto sarà bollente sull'Italia, con valore minimi e massimi in continuo aumento. In particolare le colonnine di Mercurio potranno superare diffusamente i 35 gradi, con punte anche oltre i 40 gradi sia al nord che al centro-sud. Seguite dunque tutti i prossimi aggiornamenti sul nostro sito oppure con la nostra app gratuita Meteo, per avere tutte le previsioni dettagliate per le vostre località. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.